Grazie, sempre felice di ritrovarmi qui con voi e confermo che il libro che si intitola La speranza africana esce da Mondadori il 19, avrei voluto averne già delle copie qui, ma abbiamo voluto rinviare di una settimana all'uscita per colpa di Elon Musk, come molte cose che accadono in questo mondo. Prima o poi c'entra Elon Musk, esce questo martedì una biografia di Walter Isaacson, di Elon Musk, che ha un battagio pubblicitario mondiale e allora la Mondadori ha deciso che non doveva farmi ombra e abbiamo spostato la data di una settimana. La speranza africana per molti di voi suonerà quasi come una provocazione, un titolo così, Speranza e Africa, come fanno a stare insieme? Uno simolo quantomeno. La volontà, il piano di questo libro è anche quello di sconcertarvi, di andare contro i nostri peggiori luoghi comuni sull'Africa. Come dimensioni l'Africa è, tra l'altro, sottovalutata in tutti i nostri Atlanti e nelle nostre mappe. È una storia antichissima che ha a che vedere con l'eurocentrismo delle mappe geografiche, ma in realtà è seconda solo all'Asia, per superficie terrestre. Supera Stati Uniti, più Cina, più India, messi insieme. È l'area più diversificata del pianeta per il numero di entità etniche e linguistiche. Siamo intorno alle 2000. Sul piano demografico ha tre record. La popolazione che cresce più che in ogni altra parte del mondo, e questo penso che lo sapete. La popolazione più giovane del pianeta, e questa è una qualità, è la popolazione che si sta urbanizzando più rapidamente. E questo è un tema sul quale tornerò perché è molto importante. Dal punto di vista economico, la sua performance è molto meno brillante, e tuttavia, poiché partivano da livelli bassi, estremamente bassi, i consumatori africani oggi sono quelli il cui potere d'acquisto cresce più velocemente. Tutti questi dati spiegano perché il XXI secolo, anche se forse sarà un secolo asiatico, vedrà l'Africa giocare un ruolo determinante. E non solo in negativo. Non solo come un buco nero di sciagure. I discorsi sull'Africa, le rappresentazioni del continente, sono monopolizzati per lo più da noi occidentali. E in particolare si distinguono per un quasi monopolio che hanno del discorso sull'Africa, filantropi, ONG umanitarie, animate da ottime intenzioni, naturalmente, e tutte quelle celebrity che ne abbracciano le cause. Ma il risultato è disastroso. Il risultato è una prevalenza del afropessimismo, o peggio, l'apocalisse africana. Afrocalisse. Ogni tanto c'è qualche neologismo che si affaccia. Già all'inizio di questo millennio, il settimanale inglese The Economist dedicò una copertina allo hopeless continent, il continente senza speranza. I media occidentali e il loro pubblico, cioè voi, sono interessati all'Africa generalmente a una condizione che sia associata a conflitti, guerre civili, bambini soldato, terrorismo, miseria estrema, pandemie, migranti, ovviamente migranti. Le buone notizie non interessano. I segnali di sviluppo e di modernizzazione, che pure ci sono, vanno ignorati perché contraddicono l'afrocalisse, che è un dogma. Ho ricordato quella copertina dell'Economist, che avrei potuto citarne altre migliaia, ma perché per me quella espressione lì, senza speranza, hopeless, rievoca un precedente importante. È quello di Pier Paolo Pasolini, che nel resoconto di un suo viaggio in India negli anni Sessanta, aveva usato esattamente la stessa espressione per descrivere appunto l'India di allora. L'aveva definita una nazione senza speranza. In un libro peraltro bellissimo, L'odore dell'India di Pasolini è una gemma, è un gioiello, è un capolavoro, io me lo rileggo continuamente, però non ci aveva azzeccato. È un bellissimo racconto di viaggio, consegnato in una data precisa, ma ha sbagliato tutto sul futuro dell'India. Lo sembrava senza speranza l'India degli anni Sessanta, invece era la vigilia di grandi cambiamenti, tra cui una modernizzazione della sua agricoltura che le avrebbe dato l'autosufficienza alimentare. Più tante altre novità, compresa l'ascesa della Silicon Valley indiana, Bangalore e Hyderabad, per cui nell'India di oggi si possono elencare tanti problemi, ne ha molti, la si può criticare, a molti non piace il suo governo attuale, quello di Narendra Modi che sta finendo in queste ore di presiedere al G20, ma sarebbe anacronistico descrivere l'India come stagnante, immobile, sprofondata in una inguaribile miseria e insomma senza speranza, come faceva Pasolini. E se l'Africa riuscisse a sorprenderci in futuro come l'India, se riuscisse a scrollarsi di dosso gli stessi luoghi comuni che oggi le incolliamo, luoghi comuni perché quando io ero bambino a Bruxelles, nelle nostre scuole si facevano collette per salvare i miei coetanei indiani dalla carestia. Oggi che quei bambini sono adulti, l'India è una superpotenza agricola che esporta riso e cereali nel mondo intero. Perché il miracolo che sembrava del tutto impossibile nell'India di mezzo secolo fa e invece è accaduto non potrebbe essere replicato in Africa? Quando si tratta dell'Africa noi poi non riusciamo a gestire nelle nostre menti una dissonanza cognitiva, la convivenza di contraddizioni estreme. Eppure ne siamo perfettamente capaci quando parliamo di noi stessi, dell'Europa, dell'America, della Cina. In tutti questi casi noi vediamo il... se abbiamo mente aperta, se puntiamo all'oggettività, riusciamo a conciliare gli aspetti positivi, negativi, i progressi e i regressi, le qualità e i difetti, 50 sfumature di grigio quando parliamo di altre parti del mondo. Perché non siamo capaci di un discorso maturo, sfumato, complesso, anche sul black continent? L'Africa non è solo definita da conflitti, povertà, corruzione, colpi di Stato militari. E il suo destino non dipende prevalentemente dai nostri aiuti. neppure la si può racchiudere nella recente descrizione unidimensionale della conquista cinese, che è diventata la nuova chiave di Passepartout. L'Africa è anche la culla di una nuova imprenditorialità con successi importanti. È presente con una generazione di stilisti nella moda di Milano, Parigi, New York, nei nostri musei di arte contemporanea con i suoi artisti, nelle nostre sale di concerti con i suoi musicisti, nelle nostre librerie con i suoi scrittori e scrittrici, molte donne scrittrici. Produce il fenomeno Nollywood, nome con cui viene designato il cinema nigeriano. È la terza maggiore nazione produttrice di film. Dopo gli Stati Uniti con Hollywood, l'India, Mumbai con Bollywood, al terzo posto arriva la Nigeria con Nollywood. Ecco, mi soffermo un attimo sul cinema, perché è uno dei punti di osservazione ideali. Vi consiglio di prestare attenzione ai film nigeriani che fanno record di incassi in tutta l'Africa, ma anche in tutto il grande sud globale, perché li trovate popolari anche nelle sale cinematografiche in America Latina, nel sud-est asiatico. E cosa scoprirete? Che non sono gli stessi film che ricevono dei premi nei nostri festival. Niente a che vedere. A Cannes o a Venezia, a Berlino o a Hollywood, perché una regista africana o un regista africano ricevano una onorificenza, devono mettere in scena sofferenze, campi profughi, abusi contro i diritti umani, mutilazioni genitali femminili, minoranze etniche o sessuali perseguitate. È dogmatico. Se lo fanno, possono vincere un premio. I film di Nollywood, che dilagano su Netflix, Amazon, riempiono le sale dell'emisfero sud del pianeta, invece raccontano storie di ceto medio urbano, sono commedie sentimentali, satire di costume, molti film comici, magari non sono capolavori, come non lo erano necessariamente le commedie all'italiana degli anni Sessanta, ma ci raccontano una umanità molto più normale di quella che vogliamo vedere noi. We are inventing the future. Noi stiamo inventando il futuro. Questo era un titolo del Financial Times l'11 marzo 2023. E l'intero supplemento del weekend di quell'autorevole quotidiano inglese quel giorno si chiamava The Africa Issue. Era un numero monotematico dedicato al Black Lives Matter. era un'altra consacrazione recente di un momento magico sul terreno della creatività culturale e artistica. Gli autori degli articoli su quel numero speciale del Financial Times sono tutti africani o africane, più spesso afropolitani. Questo è un altro neologismo, mi perdonerete, che viene dall'inglese. Afropolitan. Lo usano per dire africani cosmopoliti, quelli che spesso hanno vite e carriere che si alternano su più continenti, gli afropolitani. Si alternano tra Nigeria, Kenya, Sudafrica, Ghana, Etiopia, Somalia e metropoli occidentali come New York, Londra, Parigi. Una elite di intellettuali artisti africani che sono tutti autori di articoli in quel numero del Financial Times, raccontano se stessi e l'ascesa culturale del continente da cui provengono. Letteratura, musica, arti figurative come pittura e scultura, cinema, moda, sono tutti mercati investiti da questa invasione africana. E traspare in questo racconto un ottimismo a cui noi non siamo abituati, siamo del tutto impreparati. Non è per forza un ottimismo sul presente o sul futuro immediato dell'Africa in senso economico, sociale, politico. Alcuni di questi intellettuali afropolitani sono degli esuli che hanno scelto l'Occidente sia perché non trovavano opportunità in patria, sia perché dittature o guerre civili li hanno cacciati di casa. Però il loro ottimismo riguarda il fatto che oggi è l'Africa a parlare di se stessa, a raccontarsi nel bene e nel male. Il boom di produzione culturale significa questo, che sono gli africani a darci la loro versione, anziché aspettare che sia qualche occidentale a imporre la sua lettura dell'Africa. E questo è un grosso cambiamento anche perché nel nuovo protagonismo africano è raro trovare gli accenti catastrofisti e pauperistici che dominano la pubblicistica occidentale. Nel mio libro, nella Speranza Africana, una delle operazioni che faccio è proprio questa. Restituisco a loro la parola perché ci raccontino, vi raccontino la loro Africa. E leggendo questo libro scoprirete una galleria di personaggi che ho conosciuto, intervistato, le loro storie, il loro punto di vista. Tendiamoci, alcuni di questi afropolitani sono anche molto astuti e molto abili a sfruttare i nostri complessi di colpa. Vivono di rendita, alcuni di loro, sul rimorso occidentale. Fanno incetta di premi letterari a New York, Londra e Parigi, ma non si stancano di denunciare il razzismo degli stessi ambienti letterari che li stanno premiando. Hanno capito le regole del nostro gioco, il nostro gioco sadomaso preferito, che è l'autoflagellazione. Ma abbondano gli esempi di infortuni clamorosi in cui è caduta la cultura dell'autocolpevolizzazione occidentale nella sua esportazione dall'Occidente all'Africa. Ne racconto alcuni. Ve li ricordo, invece ve li cito molto brevemente e spero che avrete voglia di leggerli nel libro. Una storia esilarante è quando Hollywood, in preda al politicamente corretto, ha deciso che Cleopatra è nera e quindi Hollywood ha prodotto una serie televisiva sulla vita di Cleopatra, ovviamente con un'attrice nera, perché così bisogna fare in questo momento. In questo momento se volete vincere un premio a Hollywood, a Mletolo deve fare un attore nero. Quando però Cleopatra nera sbarca in Egitto succede il finimondo, una rivolta nazionale, prima di tutto perché è un falso storico, perché Cleopatra tra l'altro era una regina di una dinastia neanche veramente egiziana, erano i Tolomei che erano di origine macedone, quindi addirittura europei. per cui proprio quando il politicamente corretto deve inventare, falsificare la storia. E poi quella storia, insomma, l'impostura di una Cleopatra nera è andata a toccare delle corde molto sensibili nei rapporti tra il Nord Africa e l'Africa subsahariana, tra gli arabi e gli africani neri. Un finimondo. Cioè è successo un incidente diplomatico e di peggio. Un'altra storia che vi racconto è quella dei bronzi del Benin, perché anche lì c'è un cortocircuito con gli Stati Uniti. Alcuni musei americani, incluso nella città dove abitiamo noi, a New York, metropolita, sono in piena fase di espiazione dei peccati del colonialismo e quindi di restituzione di opere trafugate. Una di queste operazioni molto importante fatta dal Met di New York anche da altri musei americani, anche dal British Museum di Londra e da un grande museo di Berlino è consistito nel riportare nel Benin delle opere d'arte veramente pregevoli. Si parla di almeno un migliaio di busti spesso in bronzo, i bronzi del Benin, che non va confuso con lo stato del Benin di oggi. Questo Benin di cui sto parlando adesso è una regione della Nigeria. Ora, il problema è che la restituzione, il governo nigeriano ha deciso, andava non dentro un museo pubblico aperto a tutti i cittadini della Nigeria, ma al proprietario originario, quello a cui erano stati rubati, che era il discendente del re del Benin. Il quale re del Benin come è diventato ricco? Stra-ricco, stra-rica, una collezione di Rolls Royce. I suoi antenati erano tra i più grandi commercianti di schiavi. Questa vicenda apre uno squarcio su un tabù che è impossibile affrontare negli Stati Uniti di oggi, perché negli Stati Uniti di oggi, anche in questo campo, siamo in piena autoflagellazione. La razza bianca ha tra le sue tare, tra i suoi peccati originali di cui deve pentirsi, lo schiavismo. Ecco, peccato che in Africa lo schiavismo esistesse molto prima di noi e alcuni dei più grandi imperi africani fondavano le loro ricchezze sul commercio di schiavi. Poi sono arrivati gli arabi, ancora più bravi di loro a far soldi sul commercio e gli ottomani. Vi cito molto velocemente altri temi in cui lo scontro culturale è favoloso, dà luogo a degli equivoci e anche a dei veri conflitti. La vicenda dei diritti LGBTQ, che c'è tutta la lobby LGBTQ americana che pretende che ormai la politica estera americana sia guidata da questi diritti umani. In Africa non funziona. Ma non funziona non solo e non tanto perché i governi africani varano delle leggi che sono purtroppo delle leggi persecutorie, sono delle leggi gravemente lesive dei diritti dei gay, ma c'è dietro una società civile che li appoggia. Ci sono dietro delle credenze, dei valori. E allora il tentativo americano di innestare questa nuova vena dei diritti umani nella politica estera viene letteralmente denunciato dagli africani come la nuova forma di imperialismo culturale dell'Occidente. Concludo velocemente sul tema dell'ambientalismo perché anche il nostro nuovo ambientalismo radicale crea dei disastri enormi in Africa. Di recente viaggiando in Sudafrica abbiamo dico abbiamo parlo al plurale perché c'era Stefania mia moglie che è qui con noi stasera che si è fatta tutto il festival di Camogli è qua in prima fila una vera fan del festival una vera fan del festival abbiamo incontrato molti sudafricani inviperiti contro il nostro ambientalismo perché da una parte noi gli siamo andati non solo noi come opinioni pubbliche governi no le grandi istituzioni finanziarie internazionali che prestano soldi per investimenti importanti nel settore dell'energia che sono fondo monetario e banca mondiale ormai sono completamente dentro la logica dell'ambientalismo più estremo non prestano più soldi non investono più se non per fonti rinnovabili i sudafricani hanno un sacco di carbone e allora li abbiamo trovati veramente furibondi contro di noi perché ci dicevano ci avete detto che ormai noi dobbiamo passare tutto alle rinnovabili mentre il carbone per noi è l'energia più a buon mercato dopodiché proprio poco prima che noi viaggiassimo in Sudafrica il governo della Svezia avanzatissima modernissima paese di Greta Thunberg ha dichiarato ufficialmente che l'obiettivo di abbandonare le energie fossili in pochi decenni è irrealistico è irrealistico top la Germania appena è scoppiata la guerra in Ucraina e Putin ha smesso di vendergli gas petrolio e carbone sono corsi in Sudafrica a comprare il carbone dai sudafricani i tedeschi però noi continuiamo a fargli le prediche a dirgli che loro devono solo solare e eolico va bene per loro non sono molto contenti del nostro ambientalismo il 2023 è stato un anno speciale che ha visto una sorta di riscoperta dell'Africa come oggetto di desiderio per tutti gli altri grandi medie piccole potenze occidentali e orientali l'Africa è contesa o concupita dagli americani in gara con i cinesi i russi i francesi che tentano di reagire a un declino ormai evidente gli arabi gli emiratini turchi indiani li incontrate tutti l'Africa attrae il resto del mondo per tante ragioni ha risorse naturali immense dall'energia fossile alle rinnovabili dai minerali all'agricoltura è anche piena di terre fertili l'Africa e malgrado la nostra visione tragica è un mercato in espansione è quindi una posta in gioco nella divisione del pianeta in aree di influenza geopolitiche ha fatto scalpore alla fine del mese scorso alla fine di agosto il vertice dei BRICS ospitato dal Sudafrica che Stefania ed io eravamo lì poco prima che si aprisse il vertice dei BRICS sapete la sigla BRICS all'origine era Brasile Russia India Cina Sudafrica bene in questo vertice a fine agosto ha deciso di allargarsi a sei nuovi membri tra cui due nazioni africane Egitto ed Etiopia e guarda caso due delle nazioni che abbiamo visitato e che vi racconto nel mio libro i BRICS oggi si candidano a diventare una specie di club di opposizione all'occidente a guida cinese e l'Africa vi accresce la sua rappresentanza ma al tempo stesso ieri a Delhi in India l'unione africana è stata ammessa come membro permanente nel G20 durante il summit a presidenza indiana ecco il Sudafrica è un caso molto interessante una meta dei miei viaggi per l'appunto molto interessante perché non aderisce alle nostre sanzioni come la maggior parte dei paesi del continente africano critica le nostre forniture di armi all'Ucraina e contesta che l'Occidente condanni la Russia ma per esempio non condanni l'occupazione di territori palestinesi da parte di Israele sono discorsi che abbiamo incontrato continuamente parlando soprattutto con la classe dirigente sudafricana quella del African National Congress il partito al potere fondato da Nelson Mandela e che lì la vecchia retorica anti-occidentale riaffiora come nella prima guerra fredda quando quello che allora chiamavamo il terzo mondo sceglieva il non allineamento fra i due blocchi ma al tempo stesso simpatizzava per lo più con il comunismo sovietico o con il maoismo cinese considerandoli degli alleati nelle lotte per l'emancipazione dell'emisfero sud e la Cina tuttora è la campionessa nello sfruttare queste affinità elettive pur essendo ormai una superpotenza economica e finanziaria ormai la Cina è la principale banchiera di molti paesi africani però riesce in questo gioco continua a presentarsi come un paese emergente che sta dalla loro parte contro l'avido capitalismo occidentale e poi c'è un'altra faccia dell'espansione cinese oltre al capitalismo di stato di Pechino che fa incetta di contratti pubblici grandi infrastrutture grandi opere si stima che l'Africa ospiti ormai un milione di imprenditori cinesi questi sono piccoli e medi imprenditori spesso è un capitalismo privato che va alla conquista del suo far west in ordine sparso con una specie di spirito pionieristico e noi occidentali di nuovo con i nostri paraocchi di questa invasione vediamo solo il lato oscuro sfruttamento razzismo razzismo dei cinesi è innegabile abusi contro i lavoratori locali distruzione dell'ambiente è tutto vero è tutto vero però noi perdiamo la prospettiva storica che invece adottano alcuni osservatori africani i quali pensano che se la Cina riuscirà a esportare sul loro continente il suo modello di industrializzazione finalmente l'Africa avrà svoltato il boom economico cinese anche quello non fu per parafrasare Mao Zedong non fu una cena di gala però ha sollevato dalla miseria un miliardo di persone se dovesse succedere qualcosa di simile e il mio libro è pieno anche di questi parallelismi Asia Africa cosa gli africani stanno osservando dell'Asia esiste una ricetta alternativa a quella cinese per l'Africa forse sì io credo di sì però noi ci guardiamo bene dal proporla perché le imprese occidentali italiane incluse quando si avventurano in Africa si attirano immediatamente dei processi alle intenzioni dalla nostra magistratura alle nostre ONG ai nostri ambientalisti ai nostri giornalisti accuse preventive di neocolonialismo saccheggio di risorse corruzione tutto questo è un deterrente formidabile quale imprenditore ha voglia di andare in Africa avendo addosso tutti questi riflettori puntati le aziende cinesi o russe saudite o indiane non hanno di questi problemi ci rubano sotto il naso contratti di appalto pagando tangenti ai governi locali il nostro estremismo dei diritti umani diventa una forma di impotenza e peggio ancora perché noi siamo ormai i primi ad avallare l'alibi delle elite africane più corrotte secondo le quali esiste un solo imperialismo il nostro ora l'Italia come tutti i paesi europei dopo la guerra in Ucraina deve effettuare in parte ha cominciato a effettuare una torsione geostrategica verso il sud verso il nostro sud il primo shock energetico nel 1973 ci costrinse a cercare energia affidabile e a buon mercato a Mosca perché gli sheikhi arabi riuniti nel cartello dell'OPEC non ce la vendevano più ci negavano il petrolio oggi è Putin ad avere reciso il nostro cordone umbilicale e così ci obbliga a un ritorno al futuro in cerca di energia nordafricana e medio orientale l'idea di un piano Mattei dal nome del fondatore dell'ENI Enrico Mattei che ebbe una strategia terzomondista negli anni 50 evoca una continuità mediterranea nella politica estera italiana e quindi un interesse maggiore verso l'Africa però nel Mediterraneo oggi si viene rispettati se si ha la forza delle armi oltre alle risorse economiche e alla volontà di dialogo politico tra le flotte militari che presidiano le nostre coste sud si sono potenziate quelle di Russia e Turchia l'America c'è sempre la Francia sta perdendo zone di influenza e noi dietro ogni colpo di stato in Africa centrale ce ne sono stati otto dal 2021 scusate otto colpi di stato Mali Burkina Faso gli ultimi sono Gabon e Niger alcuni ripetutamente quindi si arriva al totale di otto anche perché alcuni di questi paesi ne hanno avuti più di uno è interessante perché in questa fascia di colpi di stato militari che sta concentrandosi sull'Africa centrale e occidentale spunta quasi sempre l'odio per la Francia e stiamo assistendo in un certo senso alla seconda morte dell'impero coloniale francese ma per molti in Italia l'Africa è diventata una cosa sola il luogo dal quale arriveranno ondate sempre più immense di migranti la pressione migratoria ovviamente esiste è innegabile ma dobbiamo smetterla di descriverla come una calamità irresistibile irrefrenabile di proporzioni bibliche le cavallette le locuste devastanti ingovernabile la bomba demografica africana da cui siamo ossessionati in realtà si sta ridimensionando come era già accaduto in Asia ascoltatemi bene queste sono cose che non leggete sulla stampa italiana l'economist ha avuto il coraggio qualche mese fa di riportare uno studio dell'ONU che capovolgeva tutte le previsioni demografiche sull'Africa da noi silenzio totale perché i demografi sbagliano sbagliano continuamente e i giornalisti che si improvvisano demografi peggio ancora l'ONU ha dovuto tagliare guardate queste sono cose che nel mio libro vi fornisco tutte le fonti potete andare a verificare a controllare tutto l'ONU ha dovuto tagliare centinaia di milioni di abitanti dalle proiezioni che aveva assegnato per esempio alla popolazione di un paese come la Nigeria al 2050 al 2100 era tutto sbagliato perché perché sono in atto dei meccanismi dei fenomeni che avevamo già visto in Asia guardate che quando io ero bambino la bomba demografica era quella asiatica non esiste più adesso la Cina ha un problema di denatalità in Africa le due forze più potenti che stanno in questo momento diciamo lavorando sulla demografia sono la scolarizzazione che migliora non abbastanza ma comunque migliora e quando le ragazze vanno a studiare fanno meno figli non fosse altro che per una questione oserei dire meccanica di calendario si sposano più tardi e quindi il periodo in cui in cui possono fare figli si accorcia e poi naturalmente diventano più padrone del proprio destino del proprio futuro acquistando strumenti culturali maggiori ma c'è un altro fenomeno parallelo che in qualche modo diventa anche un surrogato della scolarizzazione laddove la scolarizzazione non avanza abbastanza tra le ragazze africane c'è l'urbanizzazione perché si dà il caso che l'Africa ha smesso di essere un continente di villaggi di campagna dall'anno scorso ha più abitanti nelle città che nelle campagne il movimento dalle campagne verso le metropoli è impetuoso e è un po' la stessa cosa della scolarizzazione cioè quando delle ragazze si trasferiscono da un ambiente contadino rurale a un ambiente cittadino cambiano modelli di valori modelli culturali modelli di comportamento e fanno meno figli è automatico non è una cosa opinabile è così lo si vede nelle statistiche e sta succedendo e allora una cosa che dico con un certo imbarazzo perché è apparso su un grande giornale dove scrivo anch'io di recente un editoriale in cui si parlava di un miliardo di migranti che dall'Africa andranno verso il resto del mondo in Europa è un numero che non esiste da nessuna parte quello è un numero che confonde le migrazioni verso esterne all'Africa con le migrazioni interne perché il grosso degli spostamenti di popolazione avverranno stanno avvenendo e continueranno ad avvenire all'interno del continente africano dalle campagne verso le città in quanto alla fame che è ovviamente un dramma una tragedia inaccettabile moralmente però anche le statistiche più allarmistiche sulla denutrizione o sottonutrizione la descrivono come un dramma minoritario e in diminuzione nella stessa Africa le voci più lucide della cultura africana ce lo dicono da qualche tempo che noi dobbiamo smetterla di usare quel continente come oggetto di compassione pietà autocolpevolizzazione tutte attitudini eurocentriche che invariabilmente sfociano in una cultura degli aiuti più dannosa che utile è la nostra nuova forma di delirio di onnipotenza quando noi noi bianchi europei eravamo padroni del mondo lo conquistavamo avevamo i nostri imperi pensavamo con qualche ragione di essere al centro dell'universo al centro della storia adesso che non lo siamo più ci consoliamo pensando che tutto dipende comunque da noi che tutto è colpa nostra è un'altra forma di delirio di onnipotenza un premio nobel nigeriano vuole so inca alcuni di voi lo conosceranno un grandissimo artista drammaturgo soprattutto ha scritto anche un romanzo intitolato cronache dalla terra del popolo più felice del mondo il popolo più felice del mondo il titolo è un po' sarcastico perché il romanzo è ambientato nella sua nigeria che di solito non figura molto in alto nelle classifiche delle nazioni più felici però l'ironia di quel titolo del premio nobel è rivolta a noi ai lettori del resto del mondo so inca non accetta che dell'africa si parli sempre e soltanto come di una voragine della condizione umana quando la televisione inglese la bbc dedicò un documentario alla più grande città nigeriana lagos lui premio nobel so inca si scagliò contro la selezione di immagini che puntavano solo sul degrado la vita tra le feci a cielo aperto lagos è anche una metropoli dinamica feconda creativa vibrante di novità non da ultimo perché è una città di giovani e sulla stessa lunghezza d'onda di so inca un altro scrittore africano purtroppo scomparso prematuramente un personaggio straordinario il keniano Binyavanga Wainaina pubblicò un pamphlet satirico intitolato come scrivere sull'Africa ecco un passaggio sulla copertina del vostro libro non mettete mai un africano contento usate immagini di Kalashnikov individui con le costole sporgenti per la denutrizione seni nudi soggetti tabù da evitare la vita domestica normale l'amore tra africani a meno che finisca con una morte tragica al pungente sarcasmo di Wainaina io dedico un intero capitolo quello sul pop umanitario ve ne consiglio la lettura perché c'è tutta la storia di una delle più grandi operazioni di pop umanitario che fu la canzone We Are The World purtroppo qui davanti a me i vertici della Mondadori per confermare quello che sto per dirvi siccome c'è di mezzo un copyright di Michael Jackson niente meno degli eredi di Michael Jackson perché ci hanno lavorato di tutti quella canzone lì c'era da Harry Belafonte tutti i più grandi artisti afroamericani da Harry Belafonte a Lionel Richie l'intera famiglia Jackson c'era Whitney Houston e We Are The World fu uno dei grandi momenti di mobilitazione della musica pop per l'Africa e generalmente è una delle sottostorie che trovate nel mio libro quando i black americani gli afroamericani cercano di fare qualcosa per i loro cugini africani combinano solo disastri e si attirano la più forte antipatia dei loro cugini africani la mia prospettiva sull'Africa è anche influenzata dal fatto di vivere a New York perché a poca distanza da casa nostra c'è un quartiere chiamato Little Senegal Le Petit Senegal la punta sud di Harlem e lì c'è anche il nuovo centro culturale Africa Center e lì vediamo a New York vediamo transitare un flusso incessante di talenti dal continente nero scrittrici scrittori musicisti pittori Nigeria Sudafrica esportano creatività e capacità di invenzione che a New York hanno un pubblico entusiasta ma anche invece nel viaggio più recente in Sudafrica a Cape Town a città del capo siamo rimasti Stefania e io sbalorditi di fronte alla scoperta del museo Zaitz Moka uno dei più bei musei del mondo bellissimo come costruzione e poi lì dentro trovate un concentrato di tutta l'arte contemporanea panafricana non è arte nata dalla disperazione c'è qualcosa che sta accadendo in Africa e sfugge ai nostri schermi radar perché noi in quel continente cerchiamo solo dei motivi per indignarci delle nostre malefatte per la stessa ragione noi ci costringiamo a trattare le classi dirigenti africane come se fossero oggetti passivi delle manovre altrui è la cosiddetta infantilizzazione degli africani li consideriamo come dei bambini poverini non sanno quello che fanno ma i governi africani che chiamano la divisione Wagner a mettere ordine a casa loro non corrispondono alla descrizione delle vittime sanno benissimo quello che fanno praticano un gioco antico che del resto era già in vigore durante la prima guerra fredda mettono in competizione le superpotenze le elite africane lungi dall'essere marionette manovrate dai paesi ricchi sanno abilmente giostrare tra America Cina Russia Francia Arabia Turchia sfruttano le rivalità e le ambizioni per negoziare le offerte più vantaggiose purtroppo lasciano di solito le briciole ai loro popoli ma esiste un protagonismo locale le classi dirigenti africane sono il soggetto di queste manovre non una vittima passiva ora io mi rendo conto che scrivere su un intero continente può rivelare molta presunzione e molta superficialità perché oggi chi si permetterebbe spero nessuno di pronunciare affermazioni generali sull'Asia sapendo che va da Israele al Giappone includendo in mezzo la Cina l'India Singapore l'Afghanistan beh anche le 54 nazioni africane sono molto diverse tra loro lo dico davanti a un testimone della diversità come Oscar Farinetti che oggi mi ha fatto morire da ridere quando la sua battuta sugli italiani che vanno al ristorante e ordinano il solito nel paese più diverso del mondo beh noi siamo molto orgogliosi della nostra diversità l'Africa è estremamente diversa la varietà etnica linguistica culturale nel mio libro i tre esempi estremi che sono i luoghi dei miei viaggi recenti sono l'Egitto per l'Africa settentrionale l'Etiopia per quella orientale il Sudafrica per quella meridionale separati da enormi distanze in tutti i sensi e a volte è proprio sulle differenze che bisogna soffermarsi per esempio tornando alla demografia nel capitolo sulla demografia spiego che non esiste una demografia africana perché per esempio ai due estremi settentrionale e meridionale già i tassi di natalità sono scesi tantissimo nel Nord Africa nel Maghreb ormai si fanno pochi figli in Sudafrica pure e ci sono delle dinamiche già molto differenziate al loro interno tra i racconti di viaggi recenti e i personaggi che ho scelto per voi come voci da quel continente io voglio concludere citando un personaggio che mi ha molto impressionato mi ha colpito siamo rimasti affascinati un grande grande politico sudafricano nero lo dico perché in Sudafrica ancora c'è una società multietnica ci sono delle zone del paese dove i bianchi hanno ancora molto potere no questo è Motlante Motlante è stato presidente del Sudafrica aveva trascorso dieci anni in carcere durante il regime duro dell'apartheid nella stessa isola dove era chiuso in carcere Nelson Mandela e lui lui Motlante ci ha citato Nelson Mandela è una severa profezia che fece l'eroe della lotta contro l'apartheid quando mise in guardia il popolo sudafricano contro il suo stesso partito politico cioè quel African National Congress che dopo la vittoria contro l'apartheid ha il monopolio del potere da 30 anni lo cito se un giorno i capi politici dell'African National Congress si comporteranno come si sono comportati con voi i bianchi questo disse Mandela voi dovrete trattarli esattamente come avete trattato i bianchi è ora che noi impariamo a usare questa stessa lucidità e imparzialità grazie applausi